Ciao, sono Chiara Vallini in arte, neo, teatro e arti performative. Sono un'attrice performer milanese, espatriata a Torino ormai molti anni fa. Quindi la mia formazione teatrale è avvenuta a Milano e poi insomma mi sono spostata appunto a Torino dove ho continuato il mio percorso di attrice. Io ho sempre lavorato in maniera indipendente, nel senso che ho sempre fatto dei lavori miei fin dall'inizio, non ho mai lavorato con grosse compagnie e da tre anni ho fondato appunto questa associazione, compagnia dal nome Neo con cui sto portando avanti appunto un tipo di ricerca e di lavoro che è appunto il frutto di tutti gli anni che precedono appunto anche la formazione di questa nuova compagnia. Il mio primo lavoro da sola, dal titolo Don't Go Out Mrs. Brown, è un lavoro appunto che è molto incentrato sul linguaggio gestuale che è appunto il tipo di linguaggio che io ho sempre amato di più. La mia ricerca si è sempre incentrata principalmente sul gesto. Io non sono assolutamente una danzatrice, non faccio mimo, ma amo il gesto, la pulizia del gesto, quindi anche il linguaggio visivo e quello che l'immagine riesce a trasmettere. Quindi non sono assolutamente un'attrice di parola. Ricettario lato B segna un cambiamento, prima di tutto dal punto di vista della struttura, perché è una performance pensata per uno spettatore alla volta. Proprio per un'urgenza mia personale, nata a un certo punto, non so bene perché, anzi lo so bene, per un desiderio di incontrare lo spettatore in un modo diverso e soprattutto di incontrarlo. Quindi è anche un po' un lavoro che nasce da una difficoltà di trovare spazi sinceri in cui proporre il proprio lavoro, perché è una cosa purtroppo molto difficile in Italia. Con Ricettario lato B inizia per me anche una nuova sperimentazione legata al testo, per esempio, alla scrittura, che è un linguaggio che io non ho mai frequentato, diciamo. È per me un'assoluta novità che però mi sta appassionando, nel senso che anche dopo Ricettario lato B lo sto portando avanti. Una scrittura di testi che vengono completati da un lavoro di collaborazione molto stretta con un musicista, Fabio Viana, con cui io collaboro già da diversi anni, e un altro elemento che per me è molto intrigante è il riuscire a condensare in un tempo molto breve, perché Ricettario lato B si compone di ricette che durano tre minuti. E quindi a condensare in un tempo molto breve una visione il più possibile forte, diretta, quindi riuscire a stimolare in un tempo molto breve qualcosa di vero. E c'è da parte mia anche un invito in questo periodo di, comunque diciamo, generale pesantezza nel quotidiano, proprio a tentare di riscoprire il quotidiano come fonte di poesia. Il personaggio in Ricettario lato B è una cuoca che prepara dei piatti, prepara delle ricette, quindi c'è un elenco di ricette che vengono proposte allo spettatore. Quindi ogni ricetta è composta da dei gesti molto quotidiani che vengono ripetuti e che per chi guarda senza ascoltare il testo che poi viene, diciamo, unito a questi gesti può sembrare appunto, come dicevo, un'azione molto normale. In realtà la persona che poi ascolta il testo musicato che è stato composto su questi gesti associa le stesse azioni a un immaginario completamente differente e quindi sposta assolutamente il punto di vista, apre nuovi territori. E questo per me è il senso poi di quello che è questo spettacolo, quindi un'apertura, un essere veramente visionario.